Ciao a tutti amici appassionati di fotografia istantanea, guardate che bella giornata che c'è oggi alle mie spalle e mi dispiace se vedrete il mio viso un po' più scuro, ma sinceramente non me la sento di chiudere la tenda e girare questo video al buio con l'utilizzo dei softbox. Quindi dai, oggi incodiamoci questa bella giornata di sole e anche perché andremo a parlare di fotografia con Polaroid, che è una fotografia ideale proprio da fare durante le giornate assolate, in primavera e in estate. Sembra solamente ieri che abbiamo parlato della Polaroid 1000. L'avete visto il video del veloce restauro che abbiamo effettuato su questa macchinetta se per caso ve lo siete perso ricordate che ve lo lascio qui in scheda e lo potete andare a recuperare. Una macchinetta degli anni 70 che abbiamo riscoperto con vero, vero, vero piacere. Ci ha restituito delle foto davvero carine, con dei colori quasi tendenti al pastello, veramente vintage, delle foto che sembrano tirate fuori dal cassetto che è rimasto chiuso per 40 anni. Ragazzi, veramente fantastico e utilizza, come abbiamo visto, le pellicole per SX70. Abbiamo recensito tutti i nuovi modelli di macchine Polaroid, veramente tutti ci siamo fermati e l'ultimo modello delle Polaroid moderne è stata la One Step 2. Anche di questo, se per caso vi siete persi la recensione ve la lascio qui in scheda. Una macchina molto interessante che adesso si riesce anche ad acquistare con dei prezzi molto bassi, anche che si aggirano intorno ai 70 euro. C'era una cosa però che ancora non andava, che ci faceva ancora pensare se potesse essere meglio acquistare una Fuji piuttosto che una Polaroid, cioè era la qualità della definizione del soggetto inquadrato al momento qui sulla telecamera, che sembrava sempre un pelino pelino sfocato in confronto a magari allo sfondo. E quindi finalmente abbiamo tra le mani il nuovo modello, l'ultima, nata in casa Polaroid, che è la Polaroid Now. E ragazzi, la Polaroid Now non vi nascondo che era il modello che aspettavo veramente da tanto. Non vedevo l'ora di metterci le mani sopra, tant'è che appena l'ho ricevuta, l'ho messa sotto carica, ci ho effettuato subito qualche scatto con la pellicola che avevo al momento per le mani, cioè una pellicola per serie 600, quindi non un iType in bianco e nero. Adesso vi farò vedere questi scatti ed è perché sono così tanto entusiasta oggi di parlarvi della Polaroid Now. Ragazzi, se siete appassionati di fotografia istantanea, ma non eravate rimasti totalmente soddisfatti dalle nuove macchine prodotte da Polaroid Origina, beh, questo credo che vi farà ricredere. La Polaroid Now adesso è veramente una macchina, secondo me, completa, con giusto qualche piccolo difettuccio che andremo a vedere adesso un po' nel dettaglio, ma insomma stiamo andando veramente a cercare l'ago nel pagliaio. Adesso abbiamo delle foto molto più definite per il semplice fatto che con la Polaroid Now, e ve la voglio far vedere, abbiamo finalmente l'autofocus. Come funziona l'autofocus di questa macchinetta? Intanto ve la voglio mostrare, ce l'ho qui nella sacca originale di Polaroid, che se per caso vi piace vi lascio il link in descrizione, io la trovo molto carina ed è esattissima, secondo me, è proprio precisa per andare a portare in giro con noi la Polaroid. Intanto la vorrei confrontare con la Polaroid 1000. Guardate come adesso il design ci si avvicina, si avvicina molto di più al design vintage rispetto a quanto poteva esserlo la Polaroid One Step 2. Le linee sono molto più morbide, molto più arrotondate, anche le dimensioni un filino più compatte e secondo me adesso è davvero una macchina carina, con il particolare tra l'altro della striscia colorata, colore cobaleno, tipica di Polaroid. La cosa quindi che ci salta all'occhio quando guardiamo questa macchina fotografica per la prima volta è innanzitutto la focale e ne parliamo tra un attimo e soprattutto quindi dicevo che cosa? Il sensore che è questo, vedete subito sotto il mirino, è un sensore che nella vecchia serie e comunque anche nelle moderne One Step 2 era in realtà il posto del, vedete, della manopolina o comunque dell'interruttore per i tempi di scatto, quindi se volevamo una foto un po' più chiara o un po' più scura. In questa nuova Polaroid One Step 2 invece abbiamo il sensore che nel momento in cui noi andremo a fare l'anteprima di scatola, andremo a cliccare piano, insomma in modo leggero sul pulsante di scatola e andrà a controllare la distanza dal soggetto e lo andrà a mettere a fuoco. In che modo lo andrà a mettere a fuoco? Beh, adesso andiamo a dare uno sguardo alla macchina fotografica, in modo da andare a capire come funziona questo autofocus e perché sta apportando queste grandi migliorie. Ed eccola qui ragazzi, è proprio il caso di dirlo, in tutto il suo splendore, guardate quanto è bella. Parlando di dimensioni abbiamo visto, insomma, non si distacca tantissimo dal vecchio modello, parliamo di 94 mm per 112, per 150, il peso anche abbastanza contenuto, circa 430 grammi senza montare il pacchetto pellicole, per il pacchetto pellicole dobbiamo aggiungere il peso. Nel caso delle iType sono anche abbastanza leggeri, insomma non abbiamo la batteria integrata come per la serie 600 nel pacchetto pellicole. Batteria sempre integrata, una batteria agli ioni di litio da 750 mAh. Possiamo vedere qui di lato la porta micro USB per la ricarica, con il led di stato della ricarica. Come dicevo, ricaricabile via USB, cavetto USB che ci verrà dato in dotazione, così come anche il laccetto da collo, ma tutto questo che abbiamo anche visto nella One Step 2, quindi più o meno le caratteristiche sono queste. Il case è sempre in plastica, policarbonato ed ABS. Che novità quindi abbiamo? Sotto il mirino, che è sempre decentrato come potete vedere rispetto all'obiettivo, abbiamo quindi il sensore della messa a fuoco. Subito sotto abbiamo il tastino per l'autoscatto, per attivare l'autoscatto. Pulsante di scatto di colore rosso, questa volta subito sotto il flash, e potete anche ben vedere che il flash è cambiato. Questa volta è un po' più piccolo e dovrebbe essere meno invasivo. Infatti con la One Step 2, quando andavamo a effettuare gli scatti al chiuso, il soggetto era troppo illuminato, veramente troppo, tanto da scurire tutto lo sfondo e lo stesso soggetto veniva illuminato di bianco, quasi a sembrare un fantasma. Questo flash invece adesso è migliore, migliore tarato molto meglio e tra l'altro si va anche un po' ad adattare in base alla distanza dal soggetto, sempre in base all'autofocus. Ok, parliamo della cosa più importante. Come potete vedere la lente è cambiata, perlomeno è cambiata nella focale. È sempre in plastica, ma questa volta ragazzi abbiamo due due lenti, non più una, ma due lenti. Quindi l'autofocus di questa macchina in realtà funziona attivando o disattivando la lente che ci interessa, che sarà la stessa macchina in modo automatico, a scegliere quale utilizzare. Infatti che lenti abbiamo? Sempre due lenti in plastica, una che andrà a preferire una distanza fra il mezzo metro ed un metro e mezzo, mentre l'altra andrà a mettere a fuoco dal mezzo metro fino ad infinito. Quindi come sono le due lenti? Le due lenti hanno la prima, una focale di quasi 95 mm, mentre la seconda lente, quella che è da utilizzare, sempre ripeto in modo automatico, si utilizzerà per fotografare verso l'infinito, quindi un panorama, è di circa 102 mm, 102,35 mm per la precisione. Quindi ragazzi questa macchina è davvero fantastica. andrà a scegliere se c'è un soggetto in primo piano, andrà a mettere a fuoco quel soggetto, altrimenti andrà a mettere a fuoco verso l'infinito e sceglierà automaticamente quale delle due lenti andare ad utilizzare. Sentirete anche un leggerissimo click che proverò a farvi sentire al momento. Il cassettino si apre questa volta con il tasto posto nel lato sinistro, quindi andiamo a cliccare su questo tasto, vedete ed accediamo al vano cassettino. Questo è il vano cassettino che io ho utilizzato per effettuare alcune foto di prova, come vi dicevo, in bianco e nero. Vediamo se riesco ad estrarlo, lo faccio anche vedere. Vieni fuori, vieni fuori, è un po' duretto. Considerate che la macchina è nuova, l'ho appena scartata, eccolo qui. Il vano, quindi cassette, può ospitare sia pellicole per Polaroid 600, come è stato in questo caso, questo è un cassettino per Polaroid 600 che ha la batteria integrata, sia le nuove serie iType che non hanno la batteria integrata e oggi andremo a caricarla con un pacchetto della serie limitata di Stranger Things. Molto belle perché hanno tutte le cornici disegnate in questo modo, come si può vedere qui nell'anteprima della scatola. Queste saranno le cornici di queste fotografie, secondo me sono molto belle. Iniziano tra l'altro a girare anche dei pacchetti pellicola molto carini con le cornici colorate che prima per iType erano un po' limitate. Quindi questo è il cassettino, come abbiamo visto, sempre in plastica abbiamo il mirino, da sotto abbiamo il sensore, il tastino per l'autofocus, pulsante di scatto e flash. Quindi nella parte interiore abbiamo questo. La parte laterale destra solamente il cavettino, la presa per la ricarica e il led di stato. Cosa molto interessante è che finalmente abbiamo qui dietro un display che ci mostra le fotografie rimanenti. Pulsante di accensione e pulsante per escludere invece il flash in caso di fotografie proprio al pieno sole, cioè verso l'infinito dove il flash non ci serve oppure per effettuare delle fotografie artistiche particolari dove non vogliamo l'utilizzo del flash. L'accensione, eccola qui vedete, premendo il tastino di accensione si andrà ad accendere la macchina fotografica, il led di stato anche della batteria è acceso, il flash si carica automaticamente e adesso il display ci sta indicando che abbiamo zero pose rimanenti. Sull'autoscatto vorrei mettere il punto su un lato negativo che proprio non mi è piaciuto di queste decisioni che sta avendo Polore ultimamente e cioè questo, di non avere sotto un foro per il cavalletto. Quindi non avere qui il foro dove possiamo andare ad avvitare un cavallettino che ci avrebbe sicuramente reso molto più semplici gli autoscatto. Ragazzi mi dispiace tantissimo che si perdano a volte su questi dettagli perché è chiaro che capisco l'essenzialità della fotografia istantanea analogica però insomma un foro almeno per farsi la foto durante un compleanno se siamo da soli con la nostra fidanzata o con la nostra molle e vogliamo farci un autoscatto dobbiamo stare ad ingegnarci a trovare delle scatole magari così per tenere la macchinetta in posizione quando sarebbe bastato metterci una vite sotto. Insomma poco male purtroppo un peccato secondo me di andarsi a perdere per queste cose. Il prezzo della macchinetta è di circa 125 euro e questa volta l'abbiamo in ben sette varianti di colore. Sette varianti di colore tutte bellissime abbiamo finalmente di colori molto accesi come il giallo, l'arancione, il verdino. Ragazzi veramente sono belli tant'è che avrete l'imbarazzo della scelta quando dovete andare ad acquistare questa macchina fotografica. Andiamola a caricare, utilizziamo come vi dicevo il pacchetto di Stranger Sphinx che vuole farvi vedere anche come si carica questa nuova Polaroid Now. Dopodiché, beh ragazzi andiamo chiaramente a provare anche qualche scatto a colore visto che io l'unica pacchetto cartucce che avevo a casa era quello in bianco e nero della serie 600 e posso dirvi di essere rimasto finalmente piacevolmente piacevolmente colpito da questa nuova Polaroid. Tant'è che credo che sarà la mia macchina preferita per le strade. Quello che prima ci mancava cioè il fatto che le pellicole costassero tanto ed effettivamente costano tanto e avevamo un po' la paura che il soggetto non fosse a fuoco ecco che finalmente questo problema è stato risolto con la Polaroid Now. Apriamo il cassettino pellicole, sempre andiamo ad inserire la cartuccia sempre con il cartoncino vedete dove c'è il suggerimento di Polaroid verso l'alto. Inseriamolo fino a sentire un click, ecco qui, chiudiamo il cassettino e possiamo accendere la macchina. Ecco già la macchina da sola ha riconosciuto un nuovo pacchetto cartucce e ha espulso il cartoncino di sicurezza quello che va a proteggere dalla luce le pellicole. Adesso la macchinetta sarà carica e dovrebbe aver riconosciuto, se la andiamo ad accendere, ecco che abbiamo otto pose a disposizione. Quindi ragazzi abbiamo un pelino più di elettronica che sinceramente mancava secondo me su questo modello di macchina fotografica perché la One Step 2 secondo me aveva bisogno di mettere a fuoco un pelino meglio il soggetto. Il funzionamento quindi è molto semplice, quando avremo il nostro soggetto davanti alla macchina fotografica basterà effettuare una leggerissima pressione. Ecco, avete sentito questo click? Quindi se abbiamo un soggetto davanti alla nostra macchina fotografica e lei deve scegliere di inquadrare un soggetto ravvicinato, nel momento in cui andremo a premere leggermente il pulsante di scatto andrà a selezionare la lente per i primi piani. Sentite un po' il click? Ecco avete sentito? Adesso la macchinetta ha scelto la lente per i primi piani, ha switchato sulla lente per i primi piani. Se invece la macchinetta la spostiamo, ecco io adesso la giro sulle mie spalle, verso quindi l'infinito, non abbiamo un soggetto da mettere a fuoco, andiamo a ricliccare. Sentite? Ci sarà stato quest'altro click, quindi la macchinetta ha scelto l'altra lente. Quindi secondo me è veramente buono questo funzionamento di switch fra una lente e l'altra in base al soggetto. Che fotografie quindi ci può restituire? Io vi faccio vedere al voluto perché andiamo a provare un po' la cartuccia colori di Stranger Sphinx. Vedete per esempio il soggetto in questo modo viene finalmente messo a fuoco. Vedete queste foto come sono più nitide? Nonostante siano sempre fotografie che vanno a ricordare gli anni 70 e gli anni 80, vedete che finalmente il soggetto è bello nitido. Cosa che invece difficilmente ci riusciva con le vecchie serie Polaroid oppure anche con la Wastep 2. Vedete il soggetto anche all'aperto, a quel punto è molto più nitido. Abbiamo fotografie veramente molto più nitide ragazzi, mi piacciono molto molto molto. Ora scusate se queste foto che vi ho fatto vedere sarebbero state sicuramente migliori a colori, ma era l'unica cartuccia che avevo per provare al volo la macchina fotografica prima di capire se poterne già parlare bene oppure no. Ma adesso dai, andiamola anche a provare fuori, qui vicino al parco, qui che abbiamo vicino casa, scattiamo qualche foto a colori perché voglio farvi vedere il risultato. Oh ragazzi, adesso vediamo un po' i risultati trascorsi 30 minuti più o meno, sarà sempre questo il tempo necessario allo sviluppo delle fotografie. Abbiamo scattato quattro foto di esempio, intanto mettiamo qui la nostra nuova Polaroid Now e andiamo subito a vedere i risultati. Ragazzi la prima foto che ho voluto scattare, come vedete le ho subito poste all'interno dello zaino della borsa per evitare che prendessero luce e lì sono rimaste per circa 30 minuti. La prima foto che ho voluto scattare, come vi dicevo, è un panorama, quindi utilizzando la lente per la messa a fuoco ad infinito. E questo è un po' il risultato. Devo dire che la messa a fuoco non è male, è abbastanza veloce, quindi il cambio, lo switch fra una lente e l'altra. Una seconda fotografia che ho voluto scattare è questa ad alcune rose che si trovavano lì nel parco, lasciando attivo il flash. Questo era un po' un problema che si verificava anche sulla One Step 2, cioè che se il flash è attivo, sia in condizioni di molta luminosità, sia in condizioni di scarso luminosità, insomma il soggetto viene talmente tanto illuminato dal flash che si abbaglia, si brucia, come si dice. Infatti possiamo vedere che questa rosa è praticamente bruciata dalla luce. A quel punto ho voluto anche provare un altro scatto, fotografando sempre delle piante, ma questa volta escludendo il flash. Possiamo vedere che il risultato è nettamente superiore. La macchina fotografica ha sempre deciso di utilizzare la lente per un soggetto ravvicinato, entro un metro e mezzo, e possiamo vedere che effettivamente i fiori, le piante, in questo caso, sono state messe correttamente a fuoco. Per quanto riguarda i colori, beh sì dai ragazzi i colori non mi sono sembrati male, anche se devo confrontare queste fotografie con gli scatti che abbiamo fatto con le pellicole SX70 in bianco e nero, devo ammettere che le pellicole in bianco e nero non erano un po' più definite. Un'altra cosa che voglio mostrarvi è un confronto, un confronto fra le foto che abbiamo scattate, se avete visto la recensione, anzi il restauro della Polaroid 1000 che abbiamo qui, le avete già viste, erano queste. Questi sono gli scatti effettuati con la Polaroid 1000, naturalmente senza flash perché è una macchina che non ha il flash integrato, confrontandole con i colori di questa nuova Polaroid Now. Vedete un po' che differenza, insomma, queste della Polaroid 1000, nonostante le pellicole siano simili, siano moderne, entrambi anche se serie differenti, diciamo che i colori della Polaroid 1000 sembrano veramente dei colori reali di una fotografia proveniente dagli anni 70, quindi di 40 anni fa. Mentre questi colori, vedete, sono comunque un pelino più moderni. Non si avvicina alla modernità degli scatti con pellicole Fuji, come quelli per esempio della Istax SQ6, che abbiamo provato un annetto fa circa, però, insomma, possiamo dire che la nuova Polaroid Now riesce a mettere a fuoco meglio il soggetto. E stavo quasi dimenticando di aprire una velocissima parentesi sulle pellicole in edizione limitata di Stranger Sphinx. Guardate che belle che sono le diverse cornici, sono molto colorate, molto graziose e soprattutto tanto stravaganti, insomma, come il nome suggerisce. Tutti i fan di Stranger Sphinx, insomma, ci riconosceranno un po' lo stile di queste cornici. Queste ve le consiglio, soprattutto per l'estate, se volete fare degli scatti un po' stravaganti durante un party, durante una festa, ed eventualmente vi lascio in descrizione, quindi sia il pacchetto di pellicole di Stranger Sphinx, sia qualche altro link alle pellicole estive e dal Polaroid Now. E se siete nuovi o comunque appena entrati nel mondo della fotografia istantanea con Polaroid, parliamo anche di costi. perché un pacchetto da 8 scatti, sia di pellicole i-type o comunque di pellicole anche per serie 600, costa all'incirca 15€. Quindi, insomma, ogni scatto vi costerà quasi 2€. Siamo più o meno su queste cifre, diciamo che non sono proprio scatti super economici in confronto alla diretta concorrente che è Fuji. però è chiaro che la pellicola ha una dimensione maggiore rispetto a quelle alla controparte Instax e restituisce dei veri, veri colori vintage. Quindi, ragazzi, che dire? Se preferite i colori vintage e la classica fotografia Polaroid da avere, come ricordo, in casa, insomma, queste sono le macchine che dovete acquistare. Se invece preferite dei colori molto più moderni, delle fotografie molto più reali insomma, ai giorni nostri, alla fotografia moderna, allora magari sarebbe meglio dirigersi su Instax per avere dei colori molto più naturali, delle fotografie molto più definite e che costano anche un pelino meno. Ragazzi, io spero che il video di oggi possa esservi piaciuto e possa esservi stato utile qualora stavate pensando di acquistare una nuova fotocamera Polaroid. Naturalmente, se il video vi è piaciuto, un like è sempre gradito e se siete solo di passaggio sul canale, beh, dai, lo sapete! Iscrivetevi ed attivate la campanella per non perdere l'uscita dei prossimi video. Anche perché continueremo a parlare di fotografia istantanea durante tutta l'estate, di fotografia istantanea sia con Polaroid che con Fuji e quindi, dai, tutti i vostri commenti sono ben accetti. Ragazzi, per questo video è tutto. Io vi rimando alla prossima recensione per quanto riguarda la fotografia istantanea. Vi auguro una buonissima giornata ed un mega abbraccio dal vostro Far West. .